Sì, siamo qua. in coda mancano sei minuti questa è la situazione abbiamo appena visto un signore con la parrucca azzurra che guidava speriamo di rivederlo a Cardalance ci arriveremo mai ok è pazzesco ma siamo riuscite ad entrare dopo essere state in macchina tre ore e mezza tre ore e mezza e col parcheggio gratis e adesso entriamo stiamo in bagno stiamo in cui ci portano dopo cena saluta ciao siamo qua sopra l'albero di la casa abbiamo appena mangiato un po' di carabelle stiamo in bagno stiamo in bagno Grazie a tutti Grazie a tutti